Non sono la notizia principale, perché il vero colpo di scena, se così lo possiamo definire, comunque un intervento forte che è avvenuto e è avvenuto fuori dall'emiciclo, perché non è un senatore che parlava, non è neanche un parlamentare in generale, è però il segretario del Partito Democratico, Zingaretti, che ha sorpresa rispetto a quello che anche si è detto negli interventi che abbiamo sentito nel dibattito al Senato sulle dichiarazioni di Conte, ha detto benissimo le parole di Conte nei confronti di Salvini, però il governo è andato male, è andato male in materia sociale, economica e di questi disastri non si è parlato e non è pensabile nessuna intesa di governo se non c'è anche da parte di Conte il riconoscimento da parte di Conte e del suo movimento, perché di questo adesso parleremo, Conte in questo momento è il frontrunner del Movimento 5 Stelle, se non c'è il riconoscimento di questi disastri non è possibile una nuova intesa di governo e l'alternativa ovviamente sono le urne. Come a dire, Zingaretti ha molto raffreddato con questa dichiarazione la prospettiva di un'intesa di governo che avete visto sprezzantemente Salvini dava già per fatta con quell'immagine, alleatevi col partito di Bibiano, che è molto duro ovviamente sapendo qual è la vicenda di Bibiano e l'accusa di essere il PD del partito di Bibiano, se non che quell'accusa non è arrivata prima da Salvini ma fu un mese fa esatto proprio di Maio a pronunciare quelle parole. Ebbene, quell'intesa 5 Stelle PD con le dichiarazioni di Zingaretti si allontana o no? Tommaso Labatti.